A guidare la vendetta nel popolo della libertà è la patuglia pugliese capitanata dall'ex ministro Raffaele Fitto. La resa dei conti tra falchi e colombe prima o poi ci sarà e si capirà se le colombe hanno fauci più ampie e denti più aguzzi per divorare i falchi. Coloro cioè che fino all'ultimo istante con pervicacia hanno mantenuto la linea dura, clamorosamente sbugiardati e poi messi con le spalle al muro dallo stesso Berlusconi senza neanche saperlo così come fa l'imperatore a dispetto della sua corte. Chissà cosa penserà Brunetta la cui trasformazione genetica in colomba e in costruzione ma dalla Puglia a lanciare la sfida ad Alfano è la linea dei cosiddetti lealisti ovvero quelli che si contrappongono ai traditori coloro che avrebbero ordito le trame del complotto. Una forma di servilismo politico che potrebbe complicare la vita all'interno del popolo della libertà, nuova forza Italia o quello che sarà. Lo scontro si potrebbe consumare con una scissione che non servirebbe a nulla se non a spostare il baricentro della politica più a centro. A soffiare sul vento della scissione è il partito democratico che attraverso Epifani chiede la creazione di un gruppo parlamentare filogovernativo. È la fine dell'epopea berlusconiana ma le due anime del PDL a sentire le dichiarazioni dei protagonisti stanno lavorando per raggiungere un equilibrio e Alfano chiede al PD di non avventurarsi in ingerenza interne poiché il partito è tutto coeso verso Berlusconi che rimane il leader indiscusso. Fitto non fa mistero nel non condividere la linea Alfano rilanciando provocatoriamente la prospettiva dell'azzeramento dei vertici e la celebrazione di un congresso che rischia di trasformarsi in un grande campo di battaglia. Secondo Cicchitto Fitto vuole interrompere i tentativi di un'intesa unitaria. L'ex ministro che ha perso sistematicamente le regionali in Puglia è noto per le sue linee oltreanziste e per i suoi capricci. La doppia sconfitta alle regionali ne è una dimostrazione e il rischio esiste davvero se non prima che gli alfaniani riescano a riportare il barcone berlusconiano nel suo giusto equilibrio.